la serie di programma politico di attualità continua a avere come invitato del partito M21. Ricordate di quanto è già. Di attualità, di 60 anni. Adesso sono un perfeccionista, come che faccia? Adesso non, non devo dare le clavure. Se un paio è venuto a mezzare, non stai. Non posso perdere le elezioni, ma se lo dava duro? La mia ponteva così. Siamo preparati per il turco, perché al fin e al cabo non si è deciso che non si gana l'elezione o perdere l'elezione. La parola del popolo è che il popolo si escoge, 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 si escoge. Non sono più o meno, non si è deciso che non si è deciso che non se si è deciso che non se riesco a votare. Quindi si è deciso che non si riesco a preparare il tuo occhio, il tuo possibile occhio, quindi ci è deciso di preparare il mio team per il possibile occhio a non ci riesco. Si non c'è asiento, lo resta attivo in politica in 2021? In 2021, sicur, sicur lo resta attivo in politica. Preguntata se a me mes lo resta attivo, o no, di con, e se a te depende, di che il risultato sta, passo pa a me, si pueblo papia, me stai persigui, e lo che il pueblo te desea. Il pueblo non miro a me back, il pueblo non miro a me back. Il pueblo che miro a me back, il pueblo lo miro a me back. Non miro a me back. Però il M21 si, sta preparato pa si. Coup of si è asiento, movimento 21, sta si. Non di jerarquia, però di posicione, qu'è sta in, e poi, se vuoi considerare un partito come seguido? Siion Yanga. Siion Yanga. Ok. E'otro non? Tu non miro a me back, però si vuoi dissi, despues di mi, siion Yanga. Siion Yanga. Siion Yanga, un joven bonaeriano, por cierto, di Rincon, di Caminda mi oriundo da metà. Siion, sta un studiante bonaeriano, nella Hulanda, con il nostro spreigbos, il nostro spreigbos, il portavozzo di M21, il portavozzo di M21, e il pueblo di Bonaero, anche, mi sono senti qui, Nadenhaag. che vuoi dissi, che vuoi dissi, che vuoi dissi, in Bonaero? che vuoi dissi, che vuoi dissi, che vuoi dissi, facilmente. Tampoco, pa' aiuta, finanziaramente, dei tipi che caso, non c'è, ma se tu reni, che vuoi dissi, che vuoi dissi, di un altro'ombre di Bonaero, ma se non sono massi, altri. Amitere per uno, il numero 2, Bernard Landwir, il numero 3, Di Anara Janga, 4, Carlos Lopez Nattera, 5, Albersito, Sicilia, 6, Angelo, Engelhard, 7, Alfred Burgos, 8, Suleica, Stasi, 9, Norbert Adama, 10. Nadine Merinciana, 10. Tony Weber, 12. Amaro, 13. Kialtkroon, 14. Rob van den Vechten, 15. Esther Zimmerman, 16. Norman Warner, 16. Benric Martis, 18. Mireille Zaragoza, 19. Julian. Ascensioni, 20. Lorna Martis, 21. Dinci. Dinci Hellmayer, 22. Waldi Deira, San Deira. Quanto era facile per H&N, per la subilista, di tutto il partito viene a tenere un miedo della comunità, miedo di represaria, aiuta a trarre del gobierno, quantità di cose. Buongiorno. Buongiorno. Mi tengo un visador con la forma di recruttare candidati o tabatato differente da un altro partito, E la baito di un tal forma che non senti e la camina me lo che con otro non senti. Miedo di subilista. Non so saca un'advertencia, un'advertencia non, un'apropaganda, un'aviso. 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 lui no senti un viaggio nella cosa che non senti avere r San Deira, sin superi non vedi anche un'avcupazione. dove c'è necessario di conoscere un'economia per usare la disponibilità. Ci sono persone che ci sono attraverso un evento, non ci sono che ci sono aiutati, ci sono aiutati per aiutare, 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 a finire il evento non ci sono aiutare, ci sono anche che ci sono attraverso un contesto, di un'organizzazione di commissione, che attraverso le direttive. Quindi abbiamo fatto un po' di più di non cosa possa andare a fare. Abbiamo una conversazione con loro e per la conversazione ciò che ci sono chiamate un aspetto che ci sono e che si iso presentato via un liste giovani e sono pot sente che il pubblico possono ragazzare una propria del liceo perché ci sonoyardi trovati relletati ma maosa cosa che più Syria anche di postulare a più composta per ho quanto riguarda il pubblico Un pubblico non osserva non mi esl zugliano e per me explica che alla fine di un'intervento di un'intervento, ci sono i conti che ci sono stati di contatto, e a me è stato un'intervento di confinzione che non ci sono stati più sbagliato, per noi siamo costumati anche per noi, sicuro, sicuro, che ci sono anche in contatto con noi. Quindi, al comienzo di december, Siamo insieme a parlare con chi ci ha trovato, chi è sicuro, sicuro che c'è. Ci sono due casi che ci sono avvisati che sia preferibile non candidato. Questo è un motivo che ci sono stati davanti. Non c'è qualcuno che ci ha trovato il governo. E chi lo sa, chi lo sa, se non mi chiede per arrivare. Quindi io ho pensato che il migliore è mantenere la distanza. Questo è probabilmente di profilare, perchè io ho anche profilare con l'amore di chi lo guarda. E noi conosciamo, in principio, tutti i nostri amici che stanno facendo servizio al popolo. Quindi c'è anche qualcosa che mi ha dato un'emfasi di che non c'è un lavoro che si senti a Bachi, Gaudachi, Mancruzapia, Cruzata, un lavoro che mi ha servito al Pueblo. Non c'è una recompensa che mi ha dato il valore, l'inputo che mi ha dato da entregare il rinca del contenuto del lavoro. Quindi c'è gente che mi ha sentito comodo questa idea che mi ha dato un'emfasi, spero di tornare, però mi ha dato tutto per tutto. Per me portare il rincaggio qui, per noi portare a camminare a noi, ora se noi arriviamo a Bachi, c'è un lavoro enorme che guarda anche per noi. Quindi, per parte di recruttare candidato, mi ha detto che non ci sono tanti problemi e tipo di difficoltà, ma questo è un'emfasi di quello che mi ha dato un'emfasi di un'emfasi di un'emfasi di un'emfasi di un'emfasi. Ed è che il loro diverso e la bisch No, non mi noto fluttuo in ero in ero in ero in ero in ero. e quattro di qua non può profilare per lo che si tratta. Nel 21, il candidato che mi ha detto qui, il signor Tadema, Norbert Tadema, Norbert ha il suo proprio, la mia mia, l'idea, l'idea, l'idea che si tratta. Non è già qui, non è partito, né, 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 l'anno passato, né, l'anno passato, è quasi 20 anni che sta attendendo e parte, e Norbert mira, e mi è di accordo con quello che pida, se il avessere tutto ok, automaticamente non è ok. In questo modo che non ci sono leggi per mantenere tutti questi ectri e l'havano. Non ci sono leggi qui, ne sono più di 20 anni, però, una volta o l'altra, non ci sono leggi, 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 che non ci sono alcune istante, come si dice. E' una conseguenza che, entretanto, ci sono delle cose diverse, che non ci sono alcune cose, che non ci sono alcune cose, eccetera, eccetera, che non ci sono completamente in maniera. Quindi, in questa età, bisogna anche comprenderlo, che si non possiamo mantenere noi, bisogna riuscire, bisogna riuscire la legge, adattare quello che è necessario. Quindi, mantenere il controllo e la loro action è necessario, non ci sul fatto che cosa sia necessario per il risultato, che non ci sono alcune cose. Non ci sono alcune cose che ci sono anche e che non ci sono alcune cose che ci sono alcune. Non ci sono alcune cose che ci sono alcune, Che cosa succede per fare, per attenzare il quattro? Quindi, a me chiedere, che un giorno si riuscire la legge, se vincere una parte a Hulanda di questa parte, che dice un'opera di Polizia, a me chiedere, che a me chiedere che non ci sono alcune un avdeling di polizia che bisogna cominciare a conoscenziare il popolo, non bisogna cominciare a zero back. Però non mi ricordo di conoscenziare tutto il tempo e non mi guardo nessuna iniziativa di lei, perché è stata una tarea più importante, ma come diceva, è stata una bestia, ma è un passo facile per intramare una proposizione di lei, ma non bisogna conoscenziare tutto il sistema e funzionamento del nostro Consiglio Insularo. Nel nostro Consiglio Insularo, non c'è nessun momento, non so come funziona o come funziona o come funziona. Come funziona. Come funziona. Come funziona. Non so come funziona. Non so come funziona. Mi ha detto che ho fatto 8 anni. Ho fatto il 2015, come ho fatto la politica. Ho fatto 8 anni dalla campagna. Qui si è iniziato in un momento solo per fare la campagna. Diciamo. Mi ha detto che ho fatto che ho fatto una volta che ho fatto in diverse riunioni di rata, ora che ci si tratta, non so come funziona. No mio concetto, non so come funziona di diverse parti. una campagna, cada unico ha fatto la campagna per votare con il pensamento del Pueblo o per elezione. In una elezione, il Pueblo escoge 9 miembri di diversi partiti per rappresentare l'organo più alto di Bonheiro del Consiglio Insular. Nel mio concepto, in un momento in cui entravi 9 miembri di Padegna, il Consiglio Insular, in un momento in cui non c'era il nome del Partito o niente, ma lavorano insieme con 9 miembri con il Pueblo. In un momento in cui lavorano insieme, si lavorano insieme, un interesse general di tutto il Pueblo, in un momento in cui ora viene un assunto di amici, 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 ecologi contro ecologi. In una formazione, coalizione, si muove con il Pueblo si muove in un'altro, si muove in un'altro, si muove in un'altro, si muove in un'altro, si muove in un'altro. non, però si muove in un'altro, 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 che muove in un'altro, se muove in un'altro, li in un'altro, poi abbiamo Conformata chiedri , la AMI, personalmente, sem permette di problemi che sei. Quando in questo paese, la quantità di voti è sopra, è stata la lista di un partito politico. Basta usare un barco, prendere una mina, allora basta fare un barco, e basta fare un barco. E così. E coitato, è un po' questa politica al Bonnere di Anclomb. Per il motivo della etica, che ho detto, la parola di etica, mi sento una decisione di principio. È così facile. Quindi se a un uomo di un ragione di un fraccio di un hallo statato, con 40 e più voti, si ho detto, se ho detto che ho detto, si ho detto che ho detto che ho detto che ho detto un fraccio di un po' di voti, con un problema con l'armi non perché è buolamente cura non, non è proprio buolamente cura mi bai non cammina mi quedo in denan mi ha fatto un lavoro, un tarea mi ha fatto un mese l'armi lo so che vuoi partire 4 asientos con il bai con il asiento è por bai con il asiento è sta juramenta è responsabile per il asiento non è un buon il contenito di quello che non è rappresentato con il nostro spri con il nostro viso con il nostro attenzione è sta libero per andare con il asiento è costa come un mese papi è un mese sa è un mese sa per andare con il asiento è un mese sa non è un mese sa è un mese di difficoltà la storia di politica di Bonaero sempre è un mese di difficoltà ma che non si parla non si parla con il nostro attente non si parla di vita non si parla di una storia politica di anten Se vuoi continuare a fare un problema, vuoi continuare a fare un problema, ma il punto è vero che è corretto per me seguire come un problema, perché c'è una legge che è vista chiaramente, che le persone, le juramenti, sono responsabili, per le decisioni che hanno potuto prendere il problema. Ora che vuoi rappresentare, quanto vuoi fare? 230 pico. 230 pico vuoi rappresentare il Consiglio Solare? Temo il 5 di marzo, ora? Sì. Anche la metà numero 6. Se c'è un problema con la metà 230 pico, se c'è la metà numero 6, la metà numero 6 è promete 9 anni di buoneiro. Io non lo so. Sì, secondo me sta facendo la metà numero 8 Dio all'abbe, secondo me, secondo le del ame. Seconde me, secondo me, secondo me. Seconde me, secondo me. Seconde me, secondo me. Se c'è la mia vita? Non è una cosa che vive, è tec. Non, invece non è digitale, non è gente forse. Non. Come la mia vita, quando ho? Al principio? Così qui c'è una decisione? Di principio. Di principio. Ok. La cosa più interessante è passare dall'ultimo punto di vista di pubblicità. Tu sai a chi ti riferisci? Un assunto di veiling e chi. E' un politico di figura pubblica, di propria pubblica. Non, non mi sembra di vero, ma mi sembra di vero. Tu hai problema che cosa sia in pubblicità? Mi sembra che quella sia in pubblicità, sicuro, sicuro. Non c'è qualcosa che non c'è nulla, non c'è una funzione, non c'è nulla. Ma che è andata da parte della città, ma non c'è nessun punto di vista di subito e non c'è nulla. E il coro, il coro, il coro del nucleo, di quello che è passare. Tu sei capace di cui hai problemi finanziari e tu hai una situazione di un deputato? Nel mio caso non. Nel mio caso non, non c'è nessuno che non c'è nessuno. La ribellista è un sindicalista, non è associato il suo partito con il sindicalismo, non è visto che il sindicalista non è studiare il partito. Per me viene a metterci di più. Per me viene a metterci di associare il sindicalismo e pensare che il sindicalismo è studiare il mio partito. Per me viene erroneo pensamento. Per me viene a metterci di un sindicalismo, non è un sindicalismo. Non. Per me viene a metterci di associare il sindicalismo, ma anche se non è un sindicalismo, ma anche se non è un sindicalismo. Per me viene a metterci di associare il sindicalismo, ma che è importante. E' un'informazione che ha una oltre conseguenza possibile. Per me viene a metterci di associare il sindicalismo. Per me viene a metterci di associare il sindicalismo. Per me viene a metterci di associare il sindicalismo. Per me viene a metterci di associare il sindicalismo. Per me viene a metterci di associare il sindicalismo. Per me viene a metterci di associare il sindicalismo. Per me viene a metterci di associare il andale. Per me viene a metterci di associare il sindicalismo? Per me viene a metterci di associare il sindicalismo. che lo miglior di parte izquierda con parte social, junto con lo miglior di parte derechista con parte liberal, dopo un altro mei mei, anche progresivo, non conservativo, però progresivo. Non cristiano tampoco? Cristiano è un altro, cristianismo. È un ideologio? Sì, è un ideologio, però a me considerano vivere in un Stato di Derecho, quindi non c'è un scelto di carità e stati. Il governo ha un'obligazione per tenere il conto, per tenere il conto, per attendere la gente, no matter what, con igualità, con inclusività, tenendo una conto, il diritto di un humano, con cada un gente team. Quindi, per esempio, non per mesclarla di parte di carità e importanza. Come è il principio cristiano? Quanto è per voi? Il principio cristiano è quanto per noi come gente, ma per parte del Stato di Derecho, non c'è un luogo legato e regla, che ti stipulano, e che tutti gli altri, che tutti gli altri, che tutti gli altri sono uguali, e che tutti gli altri non possono andare a farlo. È un po' così facile. Ok, come è una cosa che c'è la filosofia demòcrata cristiana, o social cristiana? Non c'è una cosa che c'è la filosofia? Non c'è una cosa che c'è la filosofia? Non c'è la filosofia, c'è il Derecho, c'è il Plataforma, c'è il Regno, c'è l'Espacio per poter desarrollare il MES to the max. Dicom, se non ci sono, ci sono le comunità della Derecha 16. Il Governo deve creare il Plataforma, di tal forma che c'è gente per il uso di GES per poter desarrollare il MES. C'è l'Espacio, c'è gente che corre davanti, ma non ci sono più un push, quindi la intenzione è che non ci s'è non ci s'è in grado, non ci s'è in grado, ma ci s'è in grado di una forma o la altra, per la gente che c'è un'advantazione, ci sono beneficiari di gente che parte del Comunicato del Governo ten i carri, nel Pueblo qui. Questo Pueblo ha la responsabilità di governo. Un'economia, un'economia con il sistema di hotel, con un appartamento con un business che si è inanzo la tarea di governo e il popolo ti promete, promete tarea, responsabilità che un governo ti ha per capire. Che cosa situazione in Bonero, che vuol dire questa situazione lamentabile in cui vuoi apportare? Buongiorno, questa è una domanda che probabilmente il leader politico mi ha immaginato e mi ha avuto un contesto. Ci sono un paio di cose che non hanno, che è visibile. La differenza è che ogni partito e ogni leader di partito può fare con quello che si tratta. Ma se si tratta di tutto, non c'è tutto di combattimento della popolazione. Se si tratta di un paio di un isla che riesca, non c'è un paio di un paio di un'isla che sta edizando anche se non si tratta di una scena di conseguenza che non si tratta di un beneficio, di un modo che non si tratta di un amore di un lavoro che si tratta di un amore di un paio di un paio di un amore. Non c'erano nessuna possibilità di fare un'automobile, ma non c'erano fino a un'automobile. Allora è veneno per il servizio di tutta la bambina, e il nostro paese di servizio e la bambina. Quindi si è venuto anche il paese di un paese che abbiamo potuto bene qui non sono pioresce. E' il nostro paese è sempre che abbiamo potuto essere spazzate e in questo modo, siamo un paese di caldo e che abbiamo potuto il Camino e se non tanti gli abbandonati, non c'è una possibilità di costruire un interesse di interesse. Dunque, la gente non fa in un modo di usare, non c'è parte del compagno, ma non si fa il blu, ma non si fa in un modo di usare un'altra parte. Non ciò che c'è, non si fa in un modo di usare un'altra parte. e anche se tratta di cambiare la mentalità e peruano e colombiano e non si tratta di un sueldo minimo se io per il bale di extra si tratta di quanto peruano si tratta di un sueldo minimo e peruano se tratta di un pari non c'è una compagnia non c'è una casa non c'è una casa con un piso con un giro con un po' un mentale di shift di shift di shift si tratta di un piso che si tratta di un piso di educazione non ci tratta di un piso 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 e non hanno il diritto di arrivare. Quindi, se vedi a un'organizzazione più migliore, un strutturamento più migliore, non bisogna maneggiare, non bisogna planificazione, non bisogna organizzazione. Nel livello del governo è parte di maneggiare, è molto preoccupante. Non c'è bisogno di maneggiare, ma non bisogna andare. Due giorni passi, ho messo una conversazione con un membro di Commissione Fijo, di relazioni di Reino, di Ersa Camera, di Trede Camera con un abbonato. Allora, non bisogna parlare di Quana Inghilvido, ma come un abbonato. Allora, ogni persona sembra avendo, impossibile io alle persone obbano dire, ma non bisogna andare a 3 e 6 anni a Bona Inghilvido. Non dovete essere 3 e 6 anni. Come 3 e 5 anni? Se ora non mi bona Inghilvido, non ti bisogna pagare una casa di casa. Non ti bisogna pagare una casa di casa. Non dobbiamo pagare una casa, a trovare una casa, ma il lievore preferibile con il zwemba, ma se io non c'è un bondo di 4-5 studiante o stagiaire, non c'è un pago 800 dollari, ma non c'è un 5 per 8, 4 mil dollari. Non c'è un po' di casa, non c'è un po' di casa. Quindi, questo non è molto buono. E' lo che non c'è una persona che ci ha messo, non c'è un problema, ma è un problema che ci sia ancora buono. e dove c'è un'arco di ruota, un'arco di ruota. Ma perché è una ruota, non c'è un rio che ne va. Si, è impossibile che poi arriva a un luogo che ha 10 tajardosi a quello. Non bisogna un'arco di ruota. BNon c'è un'arco di ruota, andare a tre in un'arco, per il massimo. C'è un'arco di più, e poi c'è un'arco di più. non si rende un problema. Se non si rende un problema, non è interessante. Plante trebou? In questo modo? In mio concetto, non funziona un problema, ma non funziona. Ma cosa è stata un'idea, perché non permette un'attività... ...e un'altra parte o il l'altro, non permette. Non c'è un'organizzazione, non c'è un'evaluazione. C'è un'evaluazione che sta passando e compro per funzionare meglio. Nel momento non c'è un'evento di scrivere, ma non c'è un'evento di lavoro. Quindi c'è un costo che non c'è un'evento. Non c'è un'evento di manegra per farlo. Non c'è un'evento di stagiaire qui nel Bosch, ma non c'è un'evento di piazza, ma non c'è un'evento di stagiaire. Non, non, ma non c'è un'evento di spazio e non c'è un'evento di spazio. Alla prossima spazio a tutti i nostri spazio a fare un'evento di più. Ma non c'è un'evento di spazio, ma non c'è un'evento di spazio. Quell'evento di spazio che ci siamo interessanti. E non ci sono venuti a fare un'evento di spazio e mi aiutano qui per aiutare che ci sono. Ma ci sono dei paperi, ma non c'è un po' di vacatura. Ma cosa... Ma non c'è solo un po' di vacatura. Non c'è un po' di paperi e manetta che ci hanno. Nel fare un'oreca. Ma non c'è un po' di restaurante, non c'è un po' di sito che c'è un po' di hotel. non si può essere un po' di più, ma non si può essere un po' di più. Ma cosa cosa vuoi considerare trabola come inferiore? Mi chiede di avere anche come paga, ma io personalmente e anche a me di uno ho un'opinione che ho trovato il nostro sistema di pagamento che ci sono dei suoi risultati. Il risultato minimo è così. Sì. Non, certo, però il risultato minimo è molto sincero. A un giorno, non solo per il risultato minimo, ma un risultato minimo per 2-5 ore, ma un risultato è molto più buono. Se non, ci sarà un risultato. Potete realizzare così, il risultato minimo. Inoltre, però il risultato minimo che la città e la città della comunità ha subito, è giusto che ci sono i risultati, avevo un risultato minimo per 1.600 dollari nel minimo, mi sono cercano di più per il mio servizio. Beh, se il ritorno è incontrato per il risultato minimo, gare gli degli immagini in più ai risultati. Se ti escizi un risultato, come un risultato che scavano, per il nostro negozio, quindi è ora che ci sono un po' di balanza, ci sono un po' di base per l'ample, ci sono un po' di costo per il lavoro, e ci sono un po' di costo per il negozio. E ci sono cose che ci sono in una messa, si è iniziato a fare una scena, e ci sono un po' di salire e si è iniziato a fare un problema. Se il risultato minimo si è iniziato, un altro obiettivo. Turcos non ci sono. Quindi una subita generale è vera che turcani non ci sentiamo molto duro se non buscano una forma di bajare in un'altra banda. Ma questa è una situazione mondiale. Ayer la televisione hollandese è stato annunciato che nel prossimo tempo il paese non si subì. Abbano un 24% con l'azzo e l'azzo è un 8% che non si subì, non si subì. Non si subì, non si subì, non si subì. Questo è quello che ci si subì è un'idea con l'amidio, che il nostro mestre va a enfocare più la produzione di nostra propria comina qui nel Buneiro. Ma sal, passò... Sin acqua? Inolanda è stata un'idea con la sua tecnica e l'olanda è la numero 2 nel mondo. Ma non si abbiamo produito un'acqua di cloaca, non si usano l'acqua di cloaca. Ma io mi sono chiesto, ma io mi hanno detto, se c'è un'acqua di cloaca che serve per aiuto del caso qui, soviate, usano l'acqua. Se l'acqua non serve, mi si busco un'acqua di tipo, un'acqua di tecnica. La tecnologia è di sobra. Non si può copi e pagare le cose con l'olanda. inoltre da tutta Satoshi ma un'acqua di cultura. Quando si trattano di essere psic creativo. miei amici, più un'acqua di cultura ma anche noi stanno dicendo che si può copi e pagare la società. L'acqua di cui è parlato, ma anche un'acqua di piccola che abbia un'acqua di sicurezza, che c'è un'acqua di cultura? E allora vuoi essere parte inoltre da buona? inoltre da una breastiera anche con noi. e per farlo il valore di parte e area qui, un area che è un'area che può aiutare, parte di independenza ma è un po' di più di tutto, tanto arrivo il turismo, 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 per quanto riguarda l'entrata di noi, parte di qui, e la cultura è che è enfocata. Se non si può fare una scuola di agricoltura in San Marzo, qualche scuola, non è diversi area di noi che vanno a noi, mi sono sicura che se non si può fare l'aiuto di Holanda, per farlo, è qualcosa che in Buneiro è un lavoro che si può fare. Se non ci facciamo niente, niente non è iniziato a prendere. Quindi è una forma di come, una settimana passata, parte di Rofito, ma come si fa, bisognaperare un lavoro che sarà lavorato ma poco a anzi ..ρχò il loro s resources, in questo orthopили è una squadra di motivazione, una squadra di motivazione, una squadra di stimolare nei miei 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 Hänessi, laداante fanno dall'amore, di self, di evaluazione propria, e poi arriva con la felicità e rende. E così, noi siamo arrivati completamente. Quindi, da una forma o l'altra, noi siamo arrivati con il Quebec di nuovo. Certo, noi non abbiamo fatto un po' di più. Io non so se c'è un po' di più facile, se un po' di più adulto. Certo, noi siamo arrivati un po' di più, ma perché è arrivati un po' di più, perché è arrivati un po' di più, e poi ci siamo arrivati con il nostro paese, e poi ci siamo arrivati con il nostro paese. E ora, noi siamo arrivati a andare in un po' di più della comunità. E' qualcosa di importante, perché se noi non ci siamo arrivati, a un momento, noi siamo arrivati completamente. Forremmo il flore di immigrati che abbiamo, se noi non facciamo lo che ci siamo mesi, e poi ci siamo arrivati con il nostro paese. Ci siamo arrivati. Ci siamo arrivati con il Sampo Campania. Il Sampo Campania, ci siamo facciamo un'azione pubblico, anche noi abbiamo pubblicato la nostra contazione del Banco del 21, adesso sono 10 minuti, qui è bucato in novembre passato. Quanti anni ti rupo? Adesso sono arrivati con la sua compaglia. Ma voleva dove siamo arrivati un'eattimo million di dollari. Quindi dovevo parlare dove sono le fondi? Non abbiamo sponso, non abbiamo, dovevo parlare con queste donne. E quello che aveva il fatto è un sacco di 6 milioni. 6 milioni? Sì non c'è quello, non c'è quello che aveva, però questo non è un sacco. Quanto è che costa questa campagna qui costa? Non c'è un bel grotto in verità, un bel grotto che mi ha calcolato, ma o meno. Non c'è un bel grotto in tutto l'uomo. Un bel grotto in tutto l'uomo era circa circa 40 mil dollari. Non c'è scrapp, scrapp, scrapp. Non c'è scrapp, non c'è per il barco, ma non c'è stato necessario. Non ci sono adottorato, quindi non c'è per la campagna della bandera. Sieglie che aveva una bandera. Non c'è un par di bandera, sì. Un passaggio. Un t-shirt, non c'è. Non c'è una promessa. Assolutamente. Non c'è una promessa. Ma è difficile da fare, e pensavo che c'è stato ancora più importante. come ti pensi del assunto di volmarte? volmarte mi chiede non mi chiede stop e assunto di volmarte mi chiede pro per stop assunti di volmarte e porta algo bom e rende con di verità, verità lottati misteri di non apoderazione per esempio, mi lavoravo ho fatto dormire in un hospital che non può arrivare non è urna però noi stiamo in pratica e che trova un po' di un lato ma l'uso di quello che si è che ci sono le ragazze e' la ragazza che vingi volmarte mi chiede a questa quindi è una settimana che ci stiamo in un paio dopo ma poi ci stiamo in un paio in un paio dell'Origo che si vengono poi ci sono in un paio di minuto io ho avuto un par di minuto non sei, due minuti un po' meno di un po' più tre settimane, l'ultimo piano, l'ultima settimana della prima lezione, l'ultima opportunità, però corta, perché un po' più tre settimane, il giugno, il giugno, il giugno, il giugno, il giugno... Ma non ho conosciuto, non ho visto come tutti, non ho visto, non ho visto. Si, se stima che mi piace, è molto più. Ma non è cosa cos'è un calcio? Non ho visto l'acqua di calcio, non ho visto l'acqua di calcio, non ho visto l'acqua di calcio. Se non c'è un calcio, non ho visto l'acqua di calcio. comunque, come se non mi piace di dire, go ahead. Non mi piace, ma ci sono cose molto iniziali. Mi piace, non mi piace, non mi piace. Non mi piace, non mi piace, non mi piace. Non mi piace, non mi piace. C'è qualcosa di più? un cortico di questo, hai qualcosa? Noi siamo inizibili o in qualche altra coalizione profilata. Noi siamo inizibili di questa finanza, o in combinazione con l'altro. Mi chiede al Pueblo di Boneiro, da un'ambiente, da un nostro concepto, nostra unica alternativa, che ci chiede al Pueblo di Boneiro, da un nostro confianza per avere il mandato del Consiglio Insular, di forma che ci chiede a partecipare di una governazione attiva, diario, per avere 13 anni, per avere una differenza. Siamo inizibili il nostro programma, che ci sono in attualità. Grazie a tutti!